Oh, ciao Chloe! Ti stavamo aspettando! I miei elfi non dimenticano mai un compleanno e quest'anno hanno organizzato uno spettacolo magico tutto per te! Vediamo che cosa hanno preparato! Chloe! Ora devi tenere gli occhi sulla pallina! Hmm... dove sarà finita la pallina? Che ne pensi, questo qui? Giusto? Ok! Chloe! Hai tre anni, non è vero? Giusto! Grazie a tutti.